Si è concluso con una promessa di gemellaggio tra Trani e Mar del Plata, città natale di Astor Piazzolla, l'incontro tra il sindaco Amedeo Bottaro e Irma Rizzuti, responsabile dell'ufficio culturale dell'ambasciata della Repubblica Argentina in Italia. I due si sono riuniti per la prima volta in occasione della prima mondiale dell'opera Tango Historias di Astor, che andrà in scena in piazza Duomo. Irma Rizzuti ha colto l'occasione per invitare il primo cittadino tranese a visitare l'Argentina, promettendo anche che presto porterà con sé a Trani l'ambasciatore argentino. Ma non è tutto. L'obiettivo dei due paesi sarà quello di far riappacificare la moglie di Astor Piazzolla con la città di Trani, per far conoscere e ricordare il grande compositore di origini tranesi. Desiderio del sindaco, infatti, quello di dedicare in città un museo all'inventore del nuovo tango. Il punto c'è stato sempre da quando Piazzolla è nato a Trani e Piazzolla per l'Argentina è un dio del tango. Ma con il sindaco stavamo parlando di approfondire questo legame, soprattutto con la città di Mar del Plata, che è il luogo dove è nato anche Piazzolla, che è una città turistica di mare bellissima anche. Così che stiamo lavorando su questo progetto, io ringrazio tanto l'invito, tanto dell'associazione che organizza il festival, soprattutto del sindaco, e con la promessa di portare prossimamente all'ambasciatore che in questo momento non è in Italia. Ma io dico che cosa già è nato. Col Festival del Tango, di fatto che oramai rappresenta una tappa fissa e importante, del nostro cartellone estivo, di fatto un ponte lo abbiamo già creato con l'Argentina. È evidente che quest'anno abbiamo alzato l'asticella perché non potevamo dimenticarci che abbiamo un Piazzolla, che per noi è un cognome che di tutto ci dà, tranne che di argentino, ma assolutamente tipicamente tranese. Effettivamente è invece una storia. Chi ha fatto la storia è praticamente la musica argentina, per cui diventa un ponte assolutamente indispensabile. Dobbiamo far ben poco, se non probabilmente quello soltanto di rivitalizzare quello che c'è già, perché è un po' nelle corde di questa città, oltre che dell'Argentina tutta, per quello che Piazzolla rappresenta l'Argentina. E il tango, in un certo qual modo, rappresenta forse il modo migliore per farlo. Stiamo ragionando su iniziative importanti che probabilmente caratterizzeranno un'edizione prossima al Festival del Tango, che sarà ancora più ricca di quella di quest'anno. Non sarà facile, quindi è evidente che stiamo pensando delle cose importanti, anche appunto con un gemellaggio, con la città che ha dato i Natali invece ad Astor Piazzolla, che i cui origini sono invece tranesi. E' un legame che vogliamo, da una parte, ravvivare e rinsaldare. In questo stiamo lavorando con l'Ambasciata Argentina. Oggi la dottoressa, che peraltro rappresenta un po' la cultura argentina in Italia, quindi mai nessuno come lei, come una donna così importante per l'Argentina in Italia, ci può dare una mano, ci può aiutare. E' un progetto che quindi stiamo portando avanti. Sono convinto che, grazie soprattutto all'associazione che ha portato avanti questo importante progetto del Festival del Tango, riusciremo a fare per l'anno prossimo.